Salve a tutti, quello che voglio mostrarvi è un esercizio per la mano sinistra, un esercizio derivato dal flamenco e che è molto utile per rinforzare proprio i legamenti delle dita e quindi anche le capacità della vostra mano sinistra. Questo esercizio non l'ho ancora trovato su YouTube e quindi penso che sia piuttosto interessante e piuttosto utile per tutti coloro che pur suonando la chitarra e avendo magari anche delle grandi aspettative hanno una mano sinistra debole o sentono di avere appunto una mano sinistra che non risponde alle loro esigenze. Allora cominciamo, partiamo da la quinta corda, io metto l'indice qui sul primo tasto e poi comincio a fare una serie di legato, una serie di legature, quindi faremo medio indice, poi anulare indice e infine mignolo indice, ecco vediamolo in sequenza. Quindi abbiamo detto medio indice, anulare indice e mignolo indice. Ovviamente questo richiede già una mano sinistra piuttosto allenata. Chi non se la sente di farlo subito all'inizio della tastiera può benissimo iniziare qua nella parte più alta del manico, per esempio al settimo capotasto e fare lo stesso lavoro. Poi quando vede che la mano risponde bene scende scende progressivamente verso l'inizio del manico. Ecco questi sono esercizi molto utili derivati dalla tecnica del clamengo che io vi faccio vedere sulla chitarra classica, anzi dico anche questo, che se anche uno li vuole poi fare sulla chitarra elettrica o suona normalmente la chitarra elettrica e usa poco l'acustica o la classica, dovrebbe prima iniziare a farli sulla acustica o sulla classica, perché le corde sono più grosse e sono più difficili da gestire e dopo vedrà che con l'elettrica si troverà ancora meglio. Questo è l'esercizio base e poi ce ne sono anche altri, per esempio io posso fare anulare medio e poi mignolo indice, anulare medio, mignolo indice, oppure addirittura per rinforzare il mignolo che i chitarristi rock non usano mai, perché io li vedi in quei video che possono avere anche una ottima tecnica, però il mignolo è sempre trascurato ed è un peccato perché il mignolo è un dito come gli altri e andrebbe quindi allenato e usato come gli altri, ecco partiamo dal mignolo, vedete che anche faccio più fatica usare mi, quindi mignolo anulare, mignolo medio, mignolo indice. Grazie. 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 Grazie.